Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Monica Guerzoni, giornalista politica del Corriere della Sera, buonasera Corrado Formilli, conduttore qui sulla 7 di Piazza Pulita che riprende domani, buonasera Giuliano Guidabardi, giornalista di TPI e conduttore radiofonico sulla piattaforma Giornale Radio e buonasera Francesco Specchia, editorialista di Libero. Allora avete sentito il scontro aperto tra Meloni e Salvini sulle regionali in Sardegna ma non è solo una questione di elezioni regionali, mentre in Parlamento Elislein oggi ha attaccato in modo molto duro sui neofascisti di H a Larenzia. Subito dopo la pubblicità. Allora Corrado Formilli, abbiamo visto che adesso è scontro aperto. tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini sulla questione del candidato alla presidenza in Sardegna ma non sono solo elezioni regionali come vedremo subito e anche oggi è stata una giornata ricca di dichiarazioni molto dure da entrambe le parti, di battibecchi e in serata. Salvini ha detto che non ci sarà nessuna marcia indietro, che bisogna motivare i no alla ricandidatura di questo Solinas che è il presidente uscente in Sardegna. Ti voglio chiedere, è solo davvero una elezione regionale oppure è qualcosa di più importante visto anche come si sono scaldati gli animi? Parliamoci chiaro, qui delle elezioni regionali di cosa succede in Sardegna frega poco sia a Salvini che a Lameloni. Intanto la prima osservazione da fare è che i grattacapi a Lameloni glielo dà qualcun altro della sua maggioranza e non l'opposizione come avviene regolarmente ormai. La seconda osservazione è che appunto qui il tema di chi deve governare in Sardegna, una regione tra l'altro piena di problemi, di quale sia il profilo giusto, quale sia la competenza giusta, quanto valga il criterio di continuità, conta niente. In questo momento ci troviamo di fronte a un durissimo scontro di potere. Un durissimo scontro di potere, d'altronde Salvini fa notare con qualche ragione che in passato la Lega non era andata a rompere le uova nel paniere alleati della coalizione nelle regioni dove già governavano, penso a Toti, Liguria per esempio. Oggi cosa succede? Che si afferma un nuovo metodo che è il metodo Meloni. Il metodo Meloni è io ho più voti di te, io comando, io applico una sorta di spoil system, cioè di sostituzione dei vertici anche all'interno del mio recinto, del mio perimetro. Ultima osservazione, questo metodo di potere, io ho i voti, quindi decido e comando io tutto, provate a trasporlo in un sistema in cui la Premier, Giorgia Meloni, eletta dal popolo, va al potere. Allora, tornando al discorso del Presidente della Repubblica, dei contropoteri, ecco io credo che questo metodo sia un metodo abbastanza preoccupante. Quindi ci racconta un sacco di cose questo scontro apparentemente solo per delle elezioni regionali nella tua Sardegna, Giuliano Guidabardi. Tu che cosa pensi e chi la spunterà? Perché ricordiamo che la Lega ha il Presidente uscente della Sardegna, Solinas, mentre la Meloni vuole, e hanno già scelto, questo Truzzo che è sindaco di Cagliari e per la verità nell'uno e nell'altro sono quotati molto bene. È ultimo nella classifica del Sole 24 Ore Solinas tra i governatori d'Italia ed è terzo ultimo tra i sindaci d'Italia questo Truzzo. Quindi perché puntare intanto su due cavalli, non tanto... Mentre ha senso il fatto di ricandidare quello uscente, quello lo si fa sempre, i prassi. Ma qui di cosa stiamo parlando? Ed è vero che non frega in fondo niente a nessuno della Sardegna? È vero, è vero che non so se non freghi niente, di sicuro frega molto poco. Il metodo Meloni mi sembra il metodo Caligola, nominare il senatore al proprio cavallo per mostrare quanto si è potenti. Ha scelto di usare veramente il pugno duro, di far vedere chi comanda questa volta. E siccome la Sardegna è un po' come le elezioni storicamente di midterme negli Stati Uniti, è sempre una regione che ha anticipato le tendenze nazionali. Ha anticipato con Palomba nel 1994 l'Ivo, quando Suro venne sconfitto nel 2009 e poi Veltroni fu costretto alle dimissioni. È sempre un laboratorio politico interessante e centrale la Sardegna. È l'inizio della fine del centrodestra, cioè è l'inizio di una spaccatura che non è più sanabile. Bisogna vedere chi comanda. Uno dei due vince, però l'altro inevitabilmente perde. Francesco Specchia, sta correndo un po' troppo, Guida Bardi, l'inizio della fine del centrodestra. Di che cosa stiamo parlando? Guarda, io lo vedo un po' apocalittico, Guida Bardi, perché è ovvio ed è risaputo che né Truzzo né Solinas siano Churchill a Denauer. E non hanno un seguito straordinario e qualcosa di sbagliato hanno fatto nella loro gestione delle reciproci amministrazioni. Detto questo, c'è sicuramente, come diceva Corrado e Formigli prima, una prova di forza all'interno del centrodestra, come ci sarà anche per le elezioni europee, dato che il proporzionale impone queste proprie forze e questi riequilibri continui interni. Io credo che, onestamente, la Sardegna poi troverà la quadra, perché il centrodestra, rispetto al centrosinistra, quasi sempre, quantomeno per quanto riguarda le elezioni centrali, perché su quelle amministrative possiamo aprire una parentesi, il caso Verona ha insegnato molte cose a questo centrodestra. Ecco, il centrodestra di solito poi si riunisce, dopo una balcanizzazione continua, dopo essersi massacrato reciprocamente, si riunisce in quadrata falange e tendenzialmente alla fine va unito per colpire, prima partiva diviso, ma poi colpisce unito. Quindi, secondo me, non c'è un grosso problema, si arriverà a una quadra. Si arriverà a una quadra, secondo te? C'è un problema di leadership, è indubitabile, ma in questo momento, nel centrodestra, è vero quello che dice Corrado, che c'è una grande forza di volontà da parte dell'Avroni di imporsi. Non la vedo come il salabelva delle SS, Corrado, onestamente. Non ci vedo il pericolo nazifascista. Detto questo, bisogna ritornare all'elezione berlusconiana. A mio parere, Berlusconi, quando era Presidente del Consiglio, aveva il 30%, lasciava comunque un ampio margine di manovra agli avversari che si riduceva poi alla fine nella concessione di questo e di quel altro. E questo si racconta quindi una concessione, diciamo, diversa del potere, evidente. 30% e 30%, Berlusconi mediava e concedeva. Meloni ha un metodo che concede poco, e questo è un tema, secondo me. Come va? Io credo che, piuttosto che farsi i carachiri, come è successo nella mia Verona, è un delirio, piuttosto che far quello si arriverà a un candidato comune. Lo spero. Le agenzie di stasera, stasera continuano a insistere, l'ollo brigida, non si torna indietro. Se queste sono le funzioni di garanzia del partito di maggioranza, penso che gli altri abbiano qualcosa da temere. Allora, ecco, siccome tu ti occupi di Palazzo Chigi da molti mesi, di Giorgia Meloni, il metodo Meloni, sei d'accordo con quale delle analisi? C'è sicuramente una prova di forza da parte della Presidente del Consiglio. C'è la voglia di far pesare e contare i suoi voti molto. Tutto si sta sviluppando alla luce delle europee, perché è lì che Giorgia Meloni andrà molto probabilmente a testare il suo consenso. Ed è lì che questo gioco, che non è un gioco della donna sola al comando, avrà la sua compiuta realizzazione, perché lei correrà probabilmente, cercherà di fare il massimo dei voti, cercherà di farli fruttare in qualche modo. Potrebbe anche essere a un certo punto che Giorgia Meloni, stufa dei suoi alleati recalcitranti su tanti temi, decidesse, dopo l'europea, di riportare il Paese al vuoto? Forse no, però questa possibilità c'è e lei la tiene lì, sullo sfondo. Ecco, abbiamo giusto bisogno poi, dopo l'europea, di un'altra campagna elettorale. Quello che diciamo ci auguriamo per questo disastrato Paese. Ma magari non avverrà mai, però è sicuramente una possibilità che lei può agitare in virtù del fatto che chi ha il 30% può andare anche oltre. Corrado Formigli, vedremo, tanto seguiremo da qui a giugno naturalmente tutti i respiri, i sospiri, i scontri, i non scontri. Restiamo a quello che è successo oggi nella politica italiana, perché c'è stato il question time in Parlamento sui neofascisti di H. Larenzia. E Elie Schlein, la leader del Partito Democratico, è stata molto dura e ha attaccato Giorgia Meloni, ha detto che è ostaggio del suo passato, aggiungendo questi neofascisti non sono cani sciolti, ma un branco organizzato con cui siete andati a spasso per anni. Accolto nel segno, Elie Schlein, o è sbagliato chiamare in causa sempre Giorgia Meloni? Allora, Elie Schlein dice una cosa giusta e una cosa imprecisa. La cosa giusta è che è vero che sono andati a braccetto insieme per decenni. Giorgia Meloni, a vent'anni, diceva che Benito Mussolini era il più grande astratista degli ultimi cinquant'anni. Diceva le cose che dicono quelli che vanno ad H. Larenzia a commemorare la strage. Giorgia Meloni oggi non ha rapporti con Forza Nuova, con Casa Pound, ma sono stati compagni di strada e sta cercando di affrancarsene. Ma c'è un problema gigantesco nel partito perché quelle radici fasciste che lei vuole far dimenticare purtroppo sono ancora presenti dentro Fratelli d'Italia. Posso fare una sfilza infinita di dichiarazioni improprie e che richiamano al ventennio. Da Del Mastro che celebra la marcia su Roma con un tweet, alla russa che tiene il busto di Mussolini in casa, alla russa che dice che non c'è un richiamo all'antifascismo nella Costituzione, alla russa che definisce Presidente del Senato una banda di musicanti, i nazisti di Via Rasella. Pozzolo, lo abbiamo visto come pistolero adesso, il deputato dei Fratelli d'Italia, ma Pozzolo è uno che inneggia al duce sui tweet, andatevele a vedere, domani li mostreremo a Piazza Pulita. E così possiamo andare avanti per mezz'ora. Paola Frassinetti celebrava il campo della memoria a Milano insieme ai saluti fascisti, oggi è sottosegretario del partito e del governo Meloni. Allora, il tema è, si arrabbiano a destra dicendo perché vi accorgete di accalarenza solo adesso, perché chiedete una parola solo a Meloni. È giusto, sono 30 anni che accalarenza si celebra in quella maniera, ma oggi il problema è che il Presidente del Consiglio, che è il Presidente del Consiglio di tutti gli italiani, deve convincere coloro che non l'hanno votata e che sono governati da questo governo che le radici con quel fascismo sono recise e c'è solo un modo per farlo, dire siamo antifascisti, ci riconosciamo nelle radici antifasciste di questa Costituzione Repubblicana. Allora, Francesco Specchia, perché è così difficile utilizzare questa... Cioè dire che si è antifascisti, dovrebbe essere logico, no? Perché, vista la storia recente del nostro paese, uno dei massimi esponenti di Fratelli d'Italia, Rampelli, oggi ha definito l'intervento di Eli Schlein una lezione di antifascismo militare e che è l'accusata di distorcere i fatti, eccetera, eccetera. Ma che cosa... Cioè ci può essere accusati di essere antifascisti? Non te lo chiedo a te perché mi sembra così strano. Tra l'altro Rampelli, scusimi, è quello che ieri con Donzelli ha specificato, quindi come megafono della Meloni, che quei 200 imbecilli che alzavano il braccio, che oltre ad essere antestetico è terrificante, devo dire, sono persone assolutamente da condannare perché fanno un gioco che non è assolutamente quello di Fratelli d'Italia. Tra l'altro, devo dirti che dai colloqui, io mi ricordo sempre anche la prima volta che si parlava con la Meloni, la Meloni che si avviava verso la carriera di Presidente del Consiglio, era sempre quella che diceva che Casa Pound e Forza Nuova, in particolari atteggiamenti, in particolar modo quello del braccio alzato, erano persone assolutamente da evitare. Quindi è stato dato un ordine specifico anche a tutti i militanti e i Fratelli d'Italia di evitare di alzare i bracci in un riflesso pavloviano. Scusami Francesco, evidentemente non vengono ascoltate queste parole perché li vediamo sempre più baldanzosi, ecco, questo lo possiamo dire. Lili, mi avevo sempre detto, c'è un problema di classe dirigente perché la Meloni parte da un 4%, quel tipo di classe dirigente è arrivato al 30% e si è trovato quello che si è trovato. Dovrebbe cambiare qualche ministro, il mio parere, ma questo è una cosa abbastanza risposta. Però il suo silenzio è ambiguo perché sembra che con questo silenzio copra. Monica, l'ultimo 25 aprile vi ricordo che la Meloni ha detto che si parlava di fascismo, di manifestazioni con braccio alzato, eccetera, parlava di manifestazioni assolutamente incompatibili con la democrazia. Quindi parlava di se stesse, parlava dei suoi. Detto questo, Francesco, perché ha una storia, ha ragione Corrado Formigli, ma è anche antifascista. C'è un tema, però. Oppure, come ha detto ieri da Floris Michele Santoro, è afascista, non è più fascista, ma non è neanche antifascista. Francesco, abbiamo fatto un servizio l'anno scorso, abbiamo mandato un nostro inviato a predappio per le celebrazioni del Duce. Allora, il tema è che lì molte delle persone intervistate hanno detto che si sentivano garantite, in particolare dal Presidente del Senato, da Fratelli d'Italia, si sentivano garantite. Io non ho sentito, da parte di Giorgia Meloni, in quella circostanza, né successivamente una frase dicendo che non gli interessano i voti dei fascisti. Non l'ho detto per quelli di Predappio, non l'ho detto per quelli di Accalarenzia. Aspetta un attimo, scusami un attimo solo. Volevo aggiungere al lungo elenco di Formigli. Qualche mese fa, a Gerusalemme, il Presidente del Senato, a domanda dei cronisti, davanti al muro del pianto, direbbe, come disse Fini, che il fascismo è il male assoluto. Il Presidente del Senato... La russa. La russa non lo volle dire. E questo resta comunque un vulnus. E c'è un problema riguardo all'antifascismo che con molta onestà ha dichiarato Francesco Storace, che da quella storia viene, sul Corriere della Sera di oggi, in una bella intervista ad Alessandra Rachi. E cioè, lei si dice antifascista? Si dice fascista? No. Si dice antifascista? No. E perché? Perché quella storia ci ha portato via, la storia dell'antifascismo, tanti dei nostri, tanti sono stati uccisi nel nome dell'antifascismo. È una ragione che lui adduce. Il problema qual è? È proprio nella difficoltà di dirsi antifascista, che purtroppo riguarda anche la Presidente del Consiglio, come diceva prima Formigli. È la Presidente di tutti. Perché c'è un punto che loro confondono l'antifascismo, loro mettono assieme l'antifascismo degli anni 70 che sparava e lo fanno coincidere con l'antifascismo dei partigiani. Ma sono due cose diverse. E anche l'antifascismo di oggi dovrebbe essere una cosa diversa e un valore acquisito da tutti. Lui da Bardi e poi specchia. Un attimo Francesco. Piaccia o non piaccia? Sono garantiti, ma non dalla russa o dalla melone, sono garantiti dalla Costituzione. Faccio presente una cosa. La dodicesima disposizione transitoria finale della Costituzione prevedeva che dopo cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione i fascisti potessero ricandidarsi. Cioè, se Mussolini non avesse fatto la fine che ha fatto nel 45, nel 53 potevamo vederlo seduto nuovamente sui banchi di Montecitorio. È una Costituzione talmente liberale, è una democrazia talmente matura che consente anche che ci siano persone che hanno quell'idea e che fanno quello. È una manifestazione privata. Io lo trovo un gesto orribile, ma sono le mie posizioni. Certo è che loro hanno diritto di cittadinanza, mi pare. Io sono d'accordo con lei, Guida Bardi, che io per esempio sono contro i rati di opinione. Quindi il tema non è l'apologia del fascismo di quelle persone lì. Il problema è l'apologia di fascismo dentro il governo. E questo è il tema, non di quei 200 scappati di casa o imbecilli come li chiama Donzelli. Sono loro, vengono da una tradizione così chiara, così evidente. Hanno un partito nel cui simbolo c'è la fiamma che arde sulla tomba di Mussolini. Mi pare che cosa si chiede a loro di negare di essere se stessi? Sono loro. Specchia? Posso dire che è una questione oggettivamente di passato e di ricordo e quasi di sentimento in questo caso. Vi sembrerà strano, ma è di sentimento. È tanto vero quello che dice Guida Bardi, che mi ha tolto le parole di bocca, che bisogna anche considerare il fatto che la Costituzione in sé, ma non solo la Costituzione, ma anche le leggi di essere derivanti, come la legge del 52, la legge Scelba, che dietava la ricostituzione del partito fascista, non sono neanche chiarissime o estreme sulla identificazione del reato di fascismo. Tant'è che ci sono tre sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione anzi, quindi 2014, 2018 e 2023, che dicono l'uno e il contrario dell'altro su quel gesto, per esempio. Allora, però scusami Francesco Specchia, no, lo dico, no, scusate, lo dicevamo con Monica Guersoni, il silenzio della Meloni è il tema. Allora, intanto il silenzio della Meloni, per l'ennesima volta, silente su, diciamo, chiamiamole provocazioni di questo genere, che in realtà è un silenzio che lancia dei messaggi. No, ma al di là, diciamo, dei problemi giuridico, istituzionali, costituzionali, c'è un problema politico o no? È così difficile, invece, di... Sì, per lei è difficile, secondo me, perché è stufa di sentirsi chiedere delle analisi del sangue, cioè è stufa che gli si chieda di abbiurare, di condannare, di strappare. Lei ritiene di aver già tagliato quel cordone. Ma quando si viene da quelle radici, non bisogna mettere nel conto, forse, no? Sì, forse a maggior ragione bisognerebbe prendere distanza ogni volta, però evidentemente, come ricordava Specchia, c'è un problema sentimentale, anche. Sono anche voti, eh? Sì, è una questione sentimentale. Sono anche voti, eh? Esatto, e c'è una questione elettorale. Non sono pochi i fascisti in Italia. Sono il 4%, sono il 4% quei voti lì. La Meloni c'è il 30, ragazzi. Ragazzi, il 4% non è poca roba. Il 4%? Ce l'avesse Renzi il 4% oggi? E queste... Vabbè, insomma, evidentemente la condanna politica è ancora molto difficile da fare. E questo è un dato di fatto. Anche perché si tratta di una manifestazione organizzata? Non sono braccia sparse. Erano falange di persone vestite allo stesso modo che, appunto, i numeri li ha dati i piantedosi alla Camera. Non erano 200 scappati di casa. Che dici, Specchia? 10.000 salse. Perché poi, alla fine, a forza di parlare così, il risultato è che la Meloni prende lo 0,3% in più. Capite che non è un argomento... Va benissimo come argomento di discettazione culturale. La possiamo dire tra noi. Ma alla fine la gente è relativamente interessa... Ma d'accordo, ma c'è anche un problema dell'Italia, d'immagine dell'Italia all'estero. C'è un problema d'immagine. La Meloni è considerata la quarta libera internazionale al mondo. No, no, ma io parlavo della questione di accalarenza, non dell'immagine della Presidente del Consiglio. Ma non mi pare che Scholz stia soffrendo molto perché sono molti di più quelli che vanno a fare le stesse manifestazioni in Germania. No, no, no. In Germania hanno delle regole molto severe sul neonazismo e sull'apologia del nazismo. Chi violano serenamente, Lilli? Mica tanto. Però in tanti dicono quello che ha detto Francesco Specchia, che la sinistra utilizza fascismo, antifascismo, che non porta un voto, eccetera, eccetera. Probabilmente ha ragione, Specchia. Ciò non toglie che sia un tema da porre da un punto di vista giornalistico e culturale. Nel senso, poi, se la Meloni... C'è sempre questa questione, no? Parlate, sollevate questi problemi, fate aumentare i voti della Meloni. Ma chi se ne frega se la Meloni aumenta a basse voti? Noi facciamo un altro mestiere, che è quello di raccontare e fare un'analisi. Se la Meloni poi si avvantaggia di tutto questo, ben per la Meloni, insomma. Magari Schlein dovrà cambiare strada. Per me il tema del fascismo oggi, in un paese come l'Italia, in famiglie come le nostre, la mia personalmente, una famiglia che ha patito per il fascismo e che è fortemente antifascista, vedere queste persone è un punto sentire il silenzio del governo di fronte a queste manifestazioni dopo la sfilza di fatti, molto gravi affermazioni, gesti e parole molto grave di alti vertici dello Stato del partito di Giorgia Meloni, per me è preoccupante. Cioè tu ritieni che questo governo abbia più dovere di dirlo dei tutti i precedenti? Certo, proprio per gli episodi, per le radici che legano al passato questo partito, che ha la fiamma, che è la stessa fiamma che arde sulla bara di Mussolini. Cioè è molto semplice. Specchia, rapido? No, no, ma dico, ha ragione, corrado, sono solitamente d'accordo, per me io vioterei tutto questo tipo di manifestazioni, l'ho detto, ma perché non ne abbiamo parlato prima? Sono 46 anni che c'è questa manifestazione e le braccia alzate le abbiamo viste tutti da quando ero... Ma no, anche questo, scusami Francesco, se ne è parlato, se ne è parlato tutti gli anni e ogni volta che ci sono state manifestazioni di neofascisti così grandi e così, diciamo, imponenti in tutti i sensi. Quindi non è anche questo. E i governi l'hanno sempre condannato. Ma certo. a mia memoria. Ma no, 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 allora no, no, questo, non togliamo, perché diciamo, no, queste sono le varie propagande. Noi qui cerchiamo di capire se c'è un problema di questa destra-destra al potere con l'antifascismo e col fascismo, il neofascismo, il post-fascismo, chiamiamolo come vogliamo, oppure no, e come reagiscono le opposizioni e anche l'opinione pubblica. C'è molta parte dell'opinione pubblica che invece ha molto a cuore le radici antifasciste di questa Repubblica italiana. Corrado Formigli, siccome domani tu torni con Piazza Pulita e ti occuperai, tra le altre cose, anche di giustizia e sappiamo che sulla giustizia il governo sta andando avanti con il ministro Nordio e la maggioranza della Meloni diciamo in modo assai spedito. È stato abolito il reato di abuso d'ufficio. vogliono fare una stretta sulle intercettazioni, c'è una revisione del traffico di influenza alla legge Severino. Tu te ne occupi e di che cosa pensi di questa condizione? intanto noi ce ne occupiamo andiamo sul caso Verdini e racconteremo che cosa c'è dentro questo caso Verdini. Pubblicheremo le intercettazioni che riguardano l'ordinanza di custodia cautelare di Tommaso Verdini e i suoi soci e credo che sia forse, temo una delle ultime volte che si possa fare qualcosa del genere perché in realtà la questione più grave è questo bavaglio che non è stato deciso da questo governo ma che questo governo conferma che è stato deciso dal governo precedente con la riforma Cartavia con l'appoggio anche di pezzi dell'attuale opposizione cioè Azione Italia Viva per cui noi non potremo far sapere niente di cosa c'è dentro queste ordinanze cautelari se non dei brevi riassuntini e questo manda a ramengo il nostro lavoro di informare l'opione pubblica su fatti rilevanti. Sul tema dell'abuso d'ufficio io mi limito a dire una cosa che qui si rischia veramente di buttare il bambino con l'acqua sporca perché questo reato di abuso d'ufficio che è un reato spia di altri reati era già stato compartimentato perimetrato precisato si era tolta o ristretto l'ambito discrezione dei giudici toglierlo del tutto è evidente che è un favore che si fa ai colletti bianchi che si fa è un liberi tutti e mi colpisce una cosa lasciami dire solo questo perché se tu togli il reato di abuso d'ufficio che è quello di cui si lamentano i sindaci per liberare le mani ai sindaci e poter lavorare senza il rischio di essere messi in galera perché vuoi anche abolire la Severino che sospende i stessi sindaci e amministratori in caso di condanna di primo grado se il problema è il reato di abuso d'ufficio perché sleghi le mani anche su reati molto più gravi sospendendo la Severino per quanto riguarda l'amministratore a me sembra un liberi tutti questa qua è un liberi tutti Monica Guerzoni io sono preoccupata siamo nel pieno di una di gestione di una montagna di soldi quelli del PNRR appunto siccome abbiamo 200 miliardi di cui una buona metà sono già arrivati e sappiamo quali siano gli appetiti della criminalità organizzata su questi soldi e quanto alto sia il rischio quello che bisogna capire è che se c'è un disegno abuso d'ufficio Severino intercettazione traffico di influenza legge Bavaglio e via così c'è un disegno si vuole allentare hai dei dubbi? no ho dei dubbi mi sto chiedendo se ci sia un disegno se si vogliono allentare i controlli i lacci i laccioli la corte dei conti se si vuole rendere più permeabile quella zona di contatto tra il mondo del potere e il mondo degli affari diventa una nuova terra di mezzo dobbiamo stare un pochino attenti nuova terra di mezzo specchia rapidissimo no io faccio solo notare che innanzitutto sul bruto d'ufficio tutti i reati sono finiti oltre lo scioglimento e l'archiviazione il 93% addirittura quindi è un reato che in altri termini sarebbe bagatellare se non fosse così normale andava cambiando se l'80% anzi tutti non l'80% il 99% dei sindaci compreso De Caro sindaco PD capo dei sindaci italiani dice che è una norma giusta e si schiera con il governo di centro-destra io mi farei qualche attacco Guida Bardi rapidissimo è un reato che è stato utilizzato molto male da una magistratura che ne ha fatto veramente scempio il 99% vuol dire che quella figura non esiste così come manca il principio di legalità di tassatività sul abuso di influenze illecite oggi c'è un buco legislativo comunque si lo dice anche Giulia Buongiorno che insomma è la Lega infatti non c'è un dubbio che quei due reati però andavano riformati andavano riformati non aboliti probabilmente perché i magistrati soprattutto quelli che indagano sulla criminalità organizzata dicono che sarà un disastro anche perché c'è una parola scusate solo una parola dico abuso di ufficio in realtà stiamo parlando di abuso di potere e qui questa questione riguarda il potere esattamente allora a proposito di giustizia vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché ci sono sentenze che cambiano il linguaggio di tutti guardate tra le piccole cose che segnalano grandi cambiamenti c'è una sentenza della Corte Costituzionale depositata alla vigilia di Natale la numero 223 l'importanza di questa sentenza non deriva dal tema trattato un ricorso regionale contro un atto del governo ma dal fatto che per la prima volta nella storia della Corte la sentenza non è stata emessa dai signori giudici ma semplicemente dai giudici cancellando dall'intestazione la parola signori si è preso atto che anche nel più importante organo di garanzia costituzionale siedono oggi numerose signore la prima fu nel 1996 l'avvocata Fernanda Contri nominata dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro seguirono Maria Rita Saulle Marta Cartabia Daria De Pretis Emanuela Navarretta Antonella Sciarrone Alibrandi Silvana Sciarra e Maria Rosaria San Giorgio Su un totale di 60 giudici costituzionali che si sono alternati dal 1956 a oggi sono dunque otto le donne che hanno ricoperto o che ancora ricoprono questa carica troppe per non tenerne conto anche nel linguaggio come fa notare Eleonora Santoro sulla rivista lacostituzione.info la consulta sembra aver accolto della raccomandazione dell'Accademia della Crusca per un uso più attento della lingua anche negli atti giudiziari il prossimo passo sarà quello di sostituire nei testi scritti il termine uomo con quello di persona nessuno dovrebbe offendersi siamo in chiusura grazie Francesco Specchia grazie Monica Guersone grazie Corrado Formilli ricordo che domani riprendi con il tuo piazza pulita grazie Giuliano Guidabardi grazie spettatrici spettatori vi lascio a Cazzullo è la sua giornata particolare l'omicidio di Giulio Cesare quindi state con noi e noi come sempre domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti